Sì, sì, direi verità, insomma, vado avanti e indietro, giuro, sono davvero contenta di essere di nuovo qui e sono rilassata. Ah sì, è davvero fantastica, Dave, è successo, non ci sono così tante cose, Dave, e poi non siamo più visti e ora finalmente ti posso raccontare tutto. Ho visto anche un video super divertente, lo volevo proprio vedere, guarda. Oh sì, trovo proprio fantastico che i nostri due cari si ritrovano davvero bene. Oh sì, sono contenta anch'io, Claudia, va, ci messi? Cosa ne dici avere dei riporti? Oh, avere un altro figlio, volevo dire. Oh, in verità ho pochissimo tempo, però se ci penso ho un altro piccolino, non lo so. Ciao, cosa fate? Posso anch'io? No, 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 ma Dave e io stiamo curando un video e non c'entri. Ah, dai, di cosa si tratta? Eh, ma fuori dalla mia camera, ok? È una cosa che non ti riguarda. Oh, ma dai, non sono così male. Oh, no, 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 io non mi posso immaginare un'altra bambina, è stato così difficile già con Dave. Oh, si tratta di nascite? Oh, allora, sono curiose. Oh, come mai? Raccontami, cos'è stato difficile? Ah, con Dave mi ha dovuto dover fare proprio un taglio. Oh, cosa? Un re? Oh, sì, non sarebbe, non è il massimo, insomma. No, no, a me non è successo, meno male. Oh, Claudia, Claudia, cosa devo dirti? Ha fatto abbastanza male, però è andato tutto bene. Oh, devo assolutamente raccontare l'Anna, magari non lo sa che il suo amico o il suo fidanzato è un re. Oh. Dave, insomma, sua maestà, vorrei farvi vedere il mio castello della principessa. Cosa? No, 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 per me no, no, grazie, potrebbe essere. Oh, non capisco proprio perché sei qui. No, 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 non lo vogliamo. Puoi andare? Oh, sua maestà, le baci ai piedi. Oh, no, per favore, puoi. Sta baciando i miei piedi. Ehi? Dave, per favore, non lo so nemmeno io cosa sto facendo. Emma, smettila. Oh, e ora dimmi, perché dici a Dave mia maestà? È un gioco? E se è un gioco, per favore, non vogliamo giocare, ok? Vai da qualcun altro. E lasciaci in pace. Oh, Anna, se sono davvero una maestà, allora posso mettere anche i miei piedi sul tavolo? Oh, sì, sono... Cos'era? Non lo so cos'è, sei un re? Ok, ma giù dal tavolo. E ora, ma basta. Cos'è tutta questa storia? O me lo dici oppure puoi andartene subito? Oh, sì, tua maestà. Sì, sì, non lo sapevi? Che Dave era un re. Cosa? Un re? Ma perché mi prendete in giro? L'ha detto la mamma. Eh, ma non c'è... Ma cosa stai dicendo? Come dire che Dave è un re? No, 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 no. Non ti preoccupare. Oh, ma l'hanno detto loro, è fuffa. Tutti mi prendono in giro. Emma, no, quando sarai più grande capirai tante cose, eh? Non nascono i bambini tutti come re. Ma cosa stai dicendo? Emma, ora non te lo spiego. Vai a chiederle a mamma come nascono le bambini, ok? Ora ciao. Allora posso tenermi il mio castero della principessa? Dave tanto non lo voleva. Mamma, te l'ho tornato. Ah, ciao, Yuvian. Hai fame? Come stai nel negozio? Sì, è stata fantastica. Ma con Dave ho sempre anche questo sentimento che dice delle cose strane. Ah, sì, sì. Ora è tempo di giocare a Star Wars Surfer. Oh, me lo sono proprio guadagnato. Eh, Yuvian, eh, ho una domanda. Oh, Emma, ma perché devi proprio... Oh, allora cosa vuoi ancora, eh? Mmm, me lo chiedo da tutto il tempo, ma Anna non me lo vuole dire. Ora te lo chiedo. Come si fanno i bambini? Oh, questo vorresti saperlo da me, da Yuvian Fogg. Sì, no, non so l'indirizzo giusto. Oh, dai, Yuvian, spiegamelo, perché Anna non me lo vuole spiegare. Allora vieni qui, piccolina. Ti racconto una bella storia, ok? Ascolta. Cosa? Non me lo sarei mai immaginata. Oh, Yuvian, meno male che me l'hai raccontato. Ma hai sentito proprio bene. È proprio come una fabbrica di biscotti. I bambini nascono da una fabbrica come di biscotti. Oh, wow, devo subito andare dalla mamma, non me l'ha mai detto, ma perché no? Oh, sì, 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 vedremo. Emma, Emma, puoi essere contenta che mi hai così come fratello? Sono quello che ti racconto soprattutto. Ciao, Emma, piccina. Vuoi una cioccolata? Mamma? Dov'è la fabbrica dei bambini? Ogni caso in Promovil City ha una fabbrica di bambini. Dov'è? È in garage o in cantina? Eh, ma non so di cosa tu stia parlando. Una fabbrica di bambini? Non abbiamo una cosa del genere. Claudia, magari ha della febbre per quello racconta qualcosa di senza senso? Cosa? No, mamma? Io lo so la verità. Nessuno vuole dirmi. Dov'è la fabbrica? Oh, sì, da quanto pare non ha la febbre. Non lo so cosa stia dicendo. Avevo una domanda. Anna non mi ha risposto. Tu di sicuro no? E allora l'ho chiesto a altri. Nessuno me lo dice. Dove vengono i bambini? Julian ha detto dalla fabbrica dei bambini. Ah, la fabbrica dei bambini. Non avevo mai sentito una cosa del genere come la fabbrica dei biscotti. Anna, te lo assicuro che i bambini non vengono da una fabbrica dei bambini, ok? Puoi credermi. Mi vuoi prendere in giro? Cosa? Come? Ah, Julian ha detto che vengono dalla fabbrica. Da dove arrivano allora? Sì, per la domanda. Magari te lo può rispondere la mamma di Dave. Dai, dai, dai. Ah, Claudia. I bambini vengono vengono dalla cicogna. Oh, perché l'anno te? Julian mi ha preso di nuovo in giro. La fabbrica di ciò con la fabbrica. Anche ora chi crede?